Dottore, a proposito di innovazione, parlando di nuovi dati e potenzialità dell'intelligenza artificiale, quali risultati avete ottenuto finora in Humanitas? Allora, noi nel centro di intelligenza artificiale la nostra missione, come quella di Humanitas, è di aiutare i pazienti, curarli, aumentare la qualità clinica. In tutto quello che facciamo noi oggi ricade dentro quel perimetro. Grazie alla tecnologia, grazie ai dati, grazie ai studi clinici, noi riusciamo ad aiutare i nostri medici, accompagnarli e dargli gli strumenti necessari per poter prendere decisioni migliori sulla scelta delle cure, sulla diagnosi che fanno ai loro pazienti. Quindi per noi è fondamentale usare l'intelligenza artificiale in maniera etica e con il consenso del paziente per poter aiutare a scegliere delle cure, in questo caso migliori, e poter aumentare la qualità clinica nel nostro contesto ospedaliero.